Proseguiamo con la discussione generale. Sassi, prego, consigliere. Grazie, Presidente. Ho scoperto che in questa Assemblea abbiamo i massimi esperti dell'antimafia. Peccato che fuori da qua non sia uscito niente di quel dossier, perché sugli amministratori locali, a casa mia, a Reggio Emilia, ancora negano. Fino agli arresti negavano, dopo gli arresti no, sono diventati tutti esperti. Cofrini, come accennava il collega del Monte della Lega, è ancora al suo posto, ma ovviamente non è uno dei nostri, è uno del PD e quindi ci penseranno loro e valuteranno loro. Di certo politicamente non è un bel segno. Lasciare in una persona che ha detto che ha un mafioso, perché questo è, è una bella persona e poi si paga anche l'attrezzatura per fare una manifestazione prodomo sua. Ho fatto una manifestazione di cittadini liberi, figli del mafioso presenti, ma sono saltati fuori le fatture che il carro che portava la sua effigie a sostegno e solidarietà del sindaco attaccato dalla stampa l'ha pagata lui. Quindi, questo per dare un quadro della ipocrisia che io sto sentendo, quando si parla di infiltrazioni mafiose non si parla di lupare coppola, si parla di cravatta, si parla di lauree, si parla di gente che parla tre lingue. Non stiamo parlando del picciotto, stiamo parlando di quello che ti gioca in finanza. Scusatevi, mi scaldi, io sta roba qua non riesco veramente a concepirla. Questa qui non sarebbe una sovrapposizione di competenze con la magistratura? Facciamo che cosa? Una consulta? Fate i nomi alla magistratura. Abbiate il coraggio di fare i nomi, punto. Si aprono gli occhi e si dicono le cose come stanno. Io non riesco a concepirlo, veramente, il fatto che si sia tenuto chiuso gli occhi per vent'anni, perché le mafie sul nostro territorio non ci sono dal 2013, ci sono da vent'anni, grazie al soggiorno obbligatorio, e hanno avuto la possibilità di infiltrarsi con tutta calma e con tutta tranquillità. Hanno fatto affari, giù sparavano e qui pulivano i soldi. Adesso si parla di dover acquistare l'invenduto che ci sono sui territori, che si è costruito. Io porto l'esperienza di Reggio Emilia, ma potremmo dirne altre, non è un parma, non so, vediamo. Adesso si parla di voler acquistare l'invenduto dei costruttori che hanno costruito, grazie ai permessi, in tutti questi anni. Non vendono niente, non hanno mai neanche voluto vendere, perché lo scopo di quando si costruisce, quando certe associazioni costruiscono in maniera così spinta, non è perché vogliono vendere appartamenti, perché hanno soldi da ripulire, questo lo sanno anche i bambini. Quindi di cosa stiamo parlando? Noi stiamo chiedendo un osservatorio preciso che lavori sugli appalti, non solo sulle white list, che giustamente, come diceva Del Monti, dovrebbe essere fruibile. E questo, il Movimento 5 Stelle, lo sta presentando a Roma. Ma trova, guarda caso, ostruzione. Come mai? Certi nomi è meglio non farli? Io li faccio. Perché non è possibile pensare che dopo che questi qui hanno costruito col beneplacido dei politici locali che non vedevano e non sapevano, non capivano, ultima testimonianza di Dario, non sapevano neanche che grande era, che era calabrese, era di Cutro. Dico, ma stiamo scherzando? Abbiamo costruito tanto, adesso andiamo a comprare, perché così va nell'edilizia pubblica. Sarebbe una gran cosa, perché l'edilizia pubblica, vista la crisi, oggi dovrebbe essere espansa, non ridotta, come è successo negli ultimi anni. Bene, problema. Il problema è che andiamo a comprare un'edilizia che è in mano alla mafia. La andiamo a finanziare. E notizie di pochi giorni fa, a Sorbolo, 40 appartamenti, 20 milioni sequestrati, rete di aziende che li gestiva, a chi facevano capo? Nicolino Grande Aracri. E noi eravamo pronti ad andare a comprare l'invenduto? Anche lì, come sta succedendo a Reggio Emilia, che si dialoga attraverso Fincasa con Ayer, associazioni, imprenditori edili reggiani. Non ce n'è uno, direzze, lì dentro. E lo sanno. Alcuni di loro sono già stati fermati. Allora, parliamoci chiaro. o abbiamo il coraggio di fare nomi e cognomi e di smetterla di fare retorica come questo documento qua, che è questa retorica, signori. Questa qua non vale niente. Cosa facciamo? Parliamo ancora? Discutiamo invece di agire? Agiamo, è l'ora di agire. Diamoci un taglio, veramente. Diamoci un taglio. Grazie.